storia di moto estate siamo qui con giuliano sartoni gs racing team team manager superbike ma quando è che ti sei affezionato ti sei approcciato al mondo delle corse poi mi sembra che sei invecchiato con le corse e un bel invecchiamento allora io ho avuto un passato prima del motociclismo in un altro sport sono stato campione del mondo di full contact e però ero già innamorato delle moto parliamo di tantissimi anni fa 1985 la prima gara col gamma 500 poi 125 sp nel momento clou del motociclismo italiano con il campionato italiano il moto estate quando c'erano 400 partecipanti per categoria e poi seguire 105 da gran premio 250 da gran premio italiano europeo mondiale superbike abbiamo chiuso parlando della superbike che è un po il tuo mondo tu ci sei cresciuto come pilota e poi come team manager qual è il grande segreto di questo di questo questo sport la passione la passione l'amore per la moto e ho corso quattro anni nel mondiale superbike poi in seguito all'infortunio mi sono dovuto ritirare dalle corse e ho continuato a rimanere nell'ambiente che mi mancava ho fatto una bella esperienza come manager nel mondiale con duriano romboni e con robertino pietri abbiamo preso i primi punti di un pilota venezolano nel mondiale superbike che poi robertino è passato in moto 2 nel mondiale e siamo rimasti in superbike per un po di tempo fino a che ho pensato che era più giusto cercare di trasmettere l'esperienza la passione che ho nel motociclismo a dei giovani ragazzi talentuosi per vedere di tirare fuori qualcosa di buono stavamo parlando dei giovani hai un ti vedo già che ridi perché hai qualche prospetto e hai un po quello che è un po il tuo pupillo dai dimmi un po quali le caratteristiche di questo ragazzo che adesso andremo a conoscere diciamo che finalmente ho trovato il pilota in cui credo molto che seguo da sei anni e giacomo zannoni fin dalle mini moto per poi le mini gp e ora e l'ho portato con le moto vere qui nel mess e con una kawasaki 400 siamo qui con giacomo zannoni una domanda come ti stai trovando che cosa sta imparando in questa grande avventura del mess è un grande onore correre nel mess perché mi confronto con anche piloti mondiali come bradley smith e esordienti nel mondiale venuti nelle scorse gare ed è molto complicata essendo che l'anno scorso correvo con le mini gp ed è tutto un altro mondo e quale moto sono molto più pesanti ed è molto più difficile guidarle e mi affatico molto quindi il salto lo hai sentito sicuramente perché è una categoria completamente diversa però ci sono tante emozioni sta imparando tanto e ti sta aiutando giuliano che ti segue sì mi sta aiutando molto essendo che sono anche piccolo per questa categoria essendo che ho 13 anni abbiamo conosciuto giacomo zannoni adesso torniamo con nostro giuliano e ti chiedo un po qual è il tuo progetto introdotto giacomo con poi il tuo il tuo pupillo però ti chiediamo qual è il progetto a lunga data anche con il mess allora mi piace molto questo campionato lo credo il campionato più giusto in questo momento in italia addirittura io lo preferisco il campionato italiano perché il livello è alto le possibilità sono è ancora umano è gestibile e non c'è bisogno di avere dei mega mega strutture per poter fare una bella figura infatti noi partecipiamo con una moto un furgone un camper e giacomo è subito davanti io sto cercando di portare avanti un'altra struttura parallela che è quella di una scuola per giovani piloti che vorrei portare piano piano tutti quanti qui nel mess attraverso